questo è il bidolet questo è la mizana adesso faremo il calendario e lo faremo sulla bidolet 518 faremo sui paesaggi presenti nei dipinti del campo lo presentiamo in università è interessante questa informatia il sanoreggio viene raffigurato glorioso con il mano questo dobbiamo ancora questo è molto più ah bellissimo direi a fare la foto di questo nella stessa mano e poi vi faccio vedere quello sul presbiterio stiamo tenendo poco mentre è terminato non questo ma tutto però questo è del 1600 e di in giù una produzione e poi grazie la cosa che vuoi chiamare il comandante dei carabinieri questo è non so come fare dobbiamo passare qui quindi la santeia la santeia la santeia è bello questo, è nel 1300 come epica, un po' più avanti Spero non si faccia male Se si va c'è vecchio prezzo E anche quello, quando è un... Gesù, tra i due fiori, questo è molto bello Può essere attribuito a Michelino? Tutto da fresco Sì Un portale, guarda che bello gli occhi della donna Questo è il 1420 E poi qui scuro, eh? Sì Per vedere le forse Eh? Non vuol so dire Sì Che donna, eh? Eccoci qua, lavoro in corso Che donna, eh? Atletico Spesso, eh? Uno Due Sì Et voilà Tre Tremature Tremature Sì Ci siamo Un attimo ladino Adesso rimanete lì Buonanotte Ecco Adesso Vediamo domani Sì 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 Com'è C'è Si 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 Amade Panna Sì り Grazie. 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 Guardi. Mi si è affrescato anche solo. Madonna. Mi hanno nascosto. Probabilmente c'è anche lì. C'era tutto qua sotto. E anche lì lì. L'intonna con anche il banco inservante, eh? C'è lì. C'è lì. C'è l'assessore che sei. Lei ha parlato della Torre Civica. Vi faccio vedere che noi siamo riusciti ad esplorare la campanella. E' varia. O 74 minuti. Non sobrava. Non sobrava. E' un minato. No, no. È che l'avevo portata da Pagano. E' un minato. E' un minato. E' un minato. E' un minato. Sì, professore, le risulta che la prova d'autore sia al Campidoglio? Questo è un esempio di Sant'Alberto, l'autore, non riusciamo a capire, quella schiena fa ricordare una medesima scena che c'è nella sala degli affreschi del Borromeo, almeno quella figura lì, quella conciatura. E qui abbiamo recuperato il campanile, la tappella. Qui su, vedi tutti il campanile, 84 metri. Doviamo ancora inaugurarlo, si sale di là, se lei vuole io la porto su, però sono 200 strutture. È bello, è una bella struttura, si può salire a livello delle campanile. Il campanile del campanile. Andiamo. Andiamo. Campanile del Carmine a mezzanotte. Grazie. 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 del campanile del Carmine, a mezzanotte e mezza, ecco qui Un milione, la Regione Lumbardia e la Fondazione Calcio, gli altri 370 cento per l'ottuna per noi, se poi abbiamo un mutuo, però è bello che si sale con la mente, però un'altra volta, forse, e si vede tutta qua via Questa qui era una facciata, questa qua era una facciata, ed è la monofora che c'è lì sulla scala No, questo è sui tetti Bellissima struttura Si sale e si arriva fino alle Pugnani Si possiamo vedere, si vede anche il City Light, si vede la Circtosa, chiaramente il City Light Quando è? Le Torri di Milano, Allianz Generali Caspita! Veduto sono tanti apparecchi. E' fatto bene i migliori cambi, scoprono delle cose. La mia concorsa un giro c'era. No, questo quando è venuto non c'era ancora. Hai visto che bello Sindaco? Che bella struttura limpida, ha fatto di legno finalmente. Un anno, ci hanno dato i soldi, li abbiamo messo a posto, li abbiamo pagati. Un anno, eh? I privati. Gli unici che non c'è dato i soldi, non c'è. Non c'è. Ma non c'è. Ma non c'è. Ma finca gioventù. Ho bene vittilato oggi con il mio. Bassetti, bassetti. Un giorno salveremo. Un giorno salveremo e andremo a vedere anche i sottotetti che non si possono andare adesso a vedere perché non sono illuminati. perché altrimenti il professore è tutto. Un giorno salveremo. Che pare quotidiano. Bene. Grazie. Grazie.